Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio all'ingresso del convento, la foresteria, quindi il pozzo, il chiostro, luoghi che Pio da Pietrelcina conosceva benissimo, ma quello che vogliamo raccontarvi non riguarda San Giovanni Rotondo, perché andiamo un po' indietro negli anni. Nel 1912 Padre Pio era a Pietrelcina e sappiamo perché era a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a stare a casa, quando poi ritornava in convento purtroppo stava male. Lui aveva un rapporto epistolare con due frati, in modo particolare il suo ministro provinciale, Padre Benedetto, e il suo padre lettore, Padre Agostino, entrambi di San Marco in Lamis. In questa giornata accade qualcosa di importante, di significativo nella vita, nella storia, è di Padre Agostino, di Padre Benedetto e dello stesso Padre Pio. E da oggi, potremmo proprio dire così, comincia una sorta di direzione collegiale, cioè ciò che Padre Pio scrive a Padre Agostino vale anche per Padre Benedetto e viceversa. alle volte, infatti, scrive sia l'uno che l'altro in termini anche identici. Quindi troviamo nelle sue epistolari, proprio da questa data del 1912, delle lettere quasi comuni sia per l'uno che per l'altro. Perché tutto questo? Perché qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la volontà di Gesù che lo stesso Padre Pio esprimeva nei confronti di Padre Benedetto, che tutta la sua corrispondenza, quella inviata a Padre Agostino, doveva essere comunicata, trasferita e soprattutto anche consegnata al Padre provinciale, che era Padre Benedetto. Che cosa succede? Eh, Padre Benedetto dà questa comunicazione a Padre Agostino e scrive proprio in questi termini. Vostra paternità mi mandi per santo obbedienza tutta la corrispondenza di Padre Pio e ciò con il suo beneplacido e soprattutto, scrive appunto lo stesso Padre Pio, per volere di Gesù, tutta volontà di Gesù, che infatti lui gli esprime in determinati termini, proprio perché a questo punto poi Padre Benedetto riprende un passaggio nella lettera di Padre Pio e così scrive. Se il mio stato muove in voi l'interesse e la compassione, scriveva Padre Pio a Padre Benedetto proprio qualche giorno fa, nel 1912, vi prego di accordarmi un favore, nei limiti sempre di una possibile indulgenza che è figlia della stessa giustizia, cioè di farvi rimettere tutte le corrispondenze che inviai al Padre lettore, con l'obbligo di tenere tutto segreto, essendo questo il comando di Gesù. E queste erano le parole di Padre Pio, che poi subito sotto, in modo sottolineato, raccontano i biografi. Il Padre Benedetto in questa lettera scrive, lei poi sa che non è una belleità in me il desiderio di possedere tutti questi documenti, che serviranno alla gloria di Dio e all'onore del nostro amatissimo Padre Pio. Grazie a tutti.